SIGLA Sapete che cosa non mi piace di voi americani? Tutto quanto. Soprattutto i cowboy. Americano. Sì, New York. Poliziotto. Sì. Farò un bel botto. Come hai fatto a capirlo? Non ho faccia d'avvocato. Jack! Papà! Eh, questo che fai? Lo zonco. 007 di Plainfield, New Jersey. Rilassati, sei a sicuro. Atterra! Al sicuro un corno. Quel tipo significa guai. Terrorismo. Uranio arricchito. Armi nucleari. Qualcuno deve fermarlo. Forza, campione. No! Totto! Wow! Cos'è un archibugio? È un po' vintage. Come te. Giusto. Mi sa che l'hai già fatto, vero? Non incoraggiarlo. Io e il mio ragazzo ti faremo sputare sangue. Davvero? Davvero. Ma sei matto? Un pochino. Sei tu che vai in cerca di guai o loro che ti perseguitano? Me la faccio sempre anch'io questa domanda.